Professor Bennato, Davide, offerta della settimana. Sì, anch'io convengo sul fatto che il tema della famiglia sia sicuramente il tema dominante. E questo vuol dire sostanzialmente una cosa che la società contemporanea usa la famiglia come luogo di conflitto, relazione e costruzione di senso del mondo circostante. Per quanto mi riguarda, io mi faccio guidare appunto spesso dalle mie passioni, come spesso capita e quindi sicuramente la mia prima scelta va a Joker come film perché è un po' perché devo dire la verità, avevo visto la prima versione del film e quindi ho delle aspettative nei confronti di questo, anche se leggendo un po' in giro alcune aspettative sono piuttosto disattese. Quindi più che altro sono curioso di vedere come è andata evolvendosi la storia di una follia che comunque rappresenta o anche una critica ad alcune ossessioni del mondo contemporaneo. Poi sono rimasto proprio colpito da Charlotte Rampling, cioè da Juniper perché mi sembra molto bella questa ricostruzione della memoria familiare utilizzando come riferimento anche un modo un po' diciamo così acido con cui una donna ricostruisce la propria identità trovandosi nell'impossibilità appunto trovandosi ad affrontare la vecchiaia sostanzialmente. Quindi mi è piaciuta molto questa costruzione dolce amara familiare con cui si cerca appunto di dare una prospettiva positiva nei confronti di questa dimensione. E poi sono rimasto proprio molto colpito sia dallo stile estetico che dalla strategia narrativa di bestiari, erbari e lapidari. Perché io a me piacciono i documentari, soprattutto perché mi ritrovo a imparare cose assolutamente nuove ma il tipo di cifra poetica che ho potuto diciamo così notare in questa proposta è sicuramente, lo rende un gioiellino, cioè lo rende particolarmente interessante. E poi infine devo dire la verità, sono molto curioso di vedere i film italiani in questo momento che sono appunto sia Famiglia che Vittoria perché mi sembra che sia molto interessante l'idea di utilizzare un punto di vista tradizionalmente marginalizzato ma che può essere anche usato per comprendere alcune dinamiche del modo con cui si costruisce l'identità sia all'interno della famiglia che nel mondo circostante. Sentiamo il professor Bovalino. Andiamo a Catania. Professor Bennato, la classifica criticata, giudicata, analizzata, quello che vuole da lei? Semplicemente visionata anche perché di molti dei film che sono in classifica questa settimana vorrei vederne più di uno. Diciamo che quello che noto è che c'è una presenza piuttosto consistente della dimensione fantastica. E il che mi fa molto piacere perché vuol dire che il fantastico diventa non solo uno strumento di evasione ma anche uno strumento per affrontare il contemporaneo. Poi effettivamente se andiamo a vedere i primi tre posti ci sono delle pellicole che era prevedibile che fossero nei primi posti. Penso a Beetlejuice o a Cattivissimo Me. Sono contento per Vermiglio perché secondo me è un film che colpisce molto chi lo va a vedere. Quindi sicuramente è una bella indicazione. Tocca anche a lei, Cangitano.